Tante altre banche falliranno e Bitcoin non può che salire. Questa è l'opinione di un famoso analista, Arthur Ayes, ex CEO dell'exchange BitMEX. Le sue opinioni vanno sempre prese con le pinze e con la giusta dose di senso critico, ma contengono sempre degli spunti di riflessione interessanti, motivo per cui ho deciso di presentarvi quest'ultima e commentarla insieme a voi in questo video. Prima di iniziare ti chiedo un favore, tanti di voi guardano regolarmente i miei video ma vedo che non si sono iscritti, quindi se apprezzi il mio lavoro iscriviti al mio canale, a te non costa nulla ma a me impatta tantissimo. Ti ringrazio e buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Gli iscritti di Arthur Ayes ogni tanto li menzioniamo nelle nostre live e voi molto spesso mi suggerite ma dovresti dargli più spazio, dovremmo analizzarli di più e cose del genere. Allora ho deciso oggi di fare questo video proprio intanto per questo motivo, quindi per, come dire, seguire un po' i vostri feedback, voi ditemi come sempre se vi può interessare o no qualche, insomma, anche format del genere, quindi commenti di opinioni altrui quando sono utili, e soprattutto perché in questo scritto particolare, quello di oggi, vengono mostrate alcune dinamiche utilissime da capire per comprendere il ruolo che Bitcoin ha come asset nella situazione macroeconomica attuale, quindi crisi bancaria, aumento dei tassi, risposta soprattutto del governo americano alle situazioni, a queste due situazioni in particolare, e soprattutto appunto la reazione che Bitcoin può avere. Ovviamente Arthur Ayes è permabullish, quindi per lui è sempre up only, ma riguardo a questo io invito sempre al senso critico e al prendere con le pinze. Ma al di là delle previsioni da permabull di Arthur Ayes, è interessante proprio capire le dinamiche che ci sono dietro, perché appunto sono cose a mio parere da sapere. Il titolo è The Denominator, con la cui parola si intende, il denominatore, saremmo noi, ovvero coloro che in qualche modo detengono dollari, o comunque un ruolo nell'economia bancaria americana, perché il senso è proprio il tema del bailout, no? Nel momento in cui le banche fanno danni, e hanno un risk management mal gestito, e comunque finiscono male, alla fine questo danno si riversa su questo denominatore, che possono essere gli stakeholder della banca, coloro che detengono depositi all'interno della banca, o tutti i cittadini americani, nel caso in cui si stampi selvaggiamente moneta, come è accaduto nel 2008, e quindi la si va a svalutare. Indovinate un po' qual è il ruolo di Bitcoin in tutto questo? Ovviamente, secondo Arthur, a prescindere dalla soluzione che verrà adottata, un problema che è un problema reale, che è quello della crisi bancaria, che non può che peggiorare, Bitcoin reagirà positivamente. E adesso andiamo a vedere le motivazioni. L'inizio è un simpatico paragone con una serata in un nightclub, dove si decidono le regole, no? Le ragazze non pagano, paga chi beve per primo, eccetera, eccetera. E questo è un po', diciamo, una metafora di questo denominatore, no? Chi paga per chi, ed è quello un po' che succede nel mondo bancario. Molto simpatico, però vabbè, adesso, per non perdere troppo tempo, lo saltiamo. Il problema di fondo, ecco, all'inizio viene descritto quello che è il problema, no? Del settore bancario, ovvero la riserva frazionaria. La riserva frazionaria è il prestare più di quello che loro hanno come liquidità depositata. Questa è una formula per la crisi, nel caso in cui succeda qualcosa che spinga i depositor, quindi i clienti delle banche, a prelevare in massa. Per quale motivo? Perché le banche potrebbero non avere a disposizione pronta liquidità. E allora cosa devono fare? Chiedere a loro volta prestiti per anticipare, per avere la liquidità da dare ai loro depositanti. Non è che possono dire, no, guarda, tu non puoi prelevare perché non ho liquidità. Succede un disastro, no? Ed è quello poi che sta succedendo, che è successo in questo periodo, da alcune banche che già sono fallite. Comunque il problema di fondo è proprio questo, la riserva frazionaria. In alcuni periodi particolari, quindi che sono innescati dall'esterno, come è successo in questo periodo proprio, e adesso vi spiego anche il cos'è che l'ha innescato, può succedere, no, che c'è uno shock, in qualche modo, che innesca questa scintilla della corsa al prelievo. E quindi del andare a vedere fuori uscire liquidità. E qua entra in gioco il risk management della banca. Ovvero, il risk management è solido e la banca ha un modo per far fronte a prelievi di massa, anche di grande entità, oppure no? Se la risposta è sì, il risk management è solido e in qualche modo, poi nel lungo termine, la banca rimane solvibile. Se il risk management è povero, al contrario, c'è un problema di insolvenza. E quindi la banca o viene salvata, oppure fallisce e va in bancarotta. Che è quello che è accaduto in questo periodo, per ora, a quattro banche. Che cos'è in particolare che ha scatenato la crisi bancaria in questi mesi? In particolare a marzo abbiamo visto le prime banche cadere. Il problema è da ricercare nel passato, ovvero nel rialzo dei tassi che la Fed sta facendo ormai da un anno a questa parte. Vi faccio vedere un grafico, che è qua sotto, che lo spiega meglio di mille parole. Eccolo qua. Guardate, qui è il punto in cui la Fed ha iniziato ad alzare i tassi, fino ad arrivare a, adesso siamo praticamente al 5%, no? E questo cosa comporta? Comporta che chi investe in tre giuri americane, anche a scadenza breve, può ottenere un ritorno del 5%. Le banche, al contrario, in particolare le banche regionali, che sono le banche dove la maggioranza dei cittadini americani e dei business americani si appoggiano, non riescono a offrire un tasso di interesse del genere. Vedete, quello in arancione è l'andamento del tasso di interesse bancario medio, dei conti deposito. Per quale motivo il tasso di interesse dei conti deposito è così basso rispetto a quello della Fed? Cioè non possono adeguarsi? La risposta è il tasso che viene offerto dalle banche dipende dal rendimento che hanno le banche stesse sui loro prestiti. Cioè loro guadagnano sui prestiti e quel rendimento lì lo distribuiscono a chi gli dà liquidità. La riserva frazionaria è questa. Io deposito in banca, la banca usa la mia liquidità per prestarla in giro e alla fine io vado a... cioè la banca ottiene un rendimento e quel rendimento in parte viene distribuito a chi va a depositare liquidità. È l'incentivo a tenere liquidità all'interno di un conto bancario. E questa appunto è la riserva frazionaria. E questi prestiti hanno scadenza dilazionata nel tempo, no? Magari sono prestiti a due anni, a tre anni, a un anno e quindi non è che scadono subito, no? Infatti vedete che la curva cresce ma cresce lentamente perché tempo che maturano questi prestiti allora la banca ne può offrire altri a tassi più alti, passa del tempo. E questo genera uno spread tra il tasso della Fed e il rendimento offerto dalle banche. Quindi che succede? I depositor, cioè io che ho depositato in banca, la banca mi dà lo 0,3% ma se posso avere il 5% investendo in treasury o magari in altri conti online che offrono, che non fanno riserva frazionaria, magari sono le fintech, c'è anche il conto della Apple addirittura adesso che lo fa, no? Nell'era dell'e-banking è facile palleggiare fondi da un conto all'altro. Quindi perché mai dovrei rimanere a ottenere lo 0,5% di interesse quando posso avere il 5% investendo in treasury o in altre tipologie di conto deposito più ad alto rendimento? La risposta è molti non lo fanno. Ed ecco che si innesca la fuga di liquidità. Poi questo va a generare una reazione a catena perché la fuga di liquidità ovviamente se supera un certo punto, no? Si arriva nel momento in cui la banca stessa potrebbe non avere più liquidità immediata e questo diventa un problema. Perché non avere liquidità immediata vuol dire che o la banca deve vendere i suoi asset per ottenere liquidità oppure chiedere prestiti a terzi. Vendere i suoi asset in un momento in cui le banche principalmente acquistano bond, no? Che sono le obbligazioni governative statunitensi per avere un profilo di rischio basso. Le hanno acquistate, il problema è anche quando i tassi erano molto più bassi. E quindi adesso quei bond si sono svalutati clamorosamente. Se li dovessero rivendere prima della scadenza si va a realizzare una perdita enorme. E questo quindi fa sì che in certe situazioni con risk management mal gestito il controvalore degli asset della banca è minore addirittura della liquidità che richiedono i clienti. E questo genera l'insolvenza, no? E' quello che è accaduto ad alcune banche dove è dovuta intervenire la cosiddetta FDIC che è, vedete, l'ente americano che assicura i depositor, quindi gli utenti, i clienti della banca a scapito ovviamente degli equity holder che sono gli azionisti che sono stati spazzati via. Se voi guardate i grafici delle azioni di queste banche sono andati quasi a zero, ok? Quindi l'azionista viene spazzato via, i depositor vengono salvati per quale motivo? Perché, ragazzi, come fa vedere quest'altro grafico qua sopra, io salto un po' su, un po' giù, non vi sto a fare la lettura, vi presento i dati importanti, poi vi lascio il link in descrizione se ve lo volete leggere integralmente, ve lo consiglio. Come vedete, le banche regionali, le cosiddette small banks, è un po' sgranata l'immagine, vabbè, sono le banche che vanno a far funzionare la cosiddetta economia reale. Quindi, vedete, sono quelle che erogano i prestiti per il real estate commerciale, quindi uffici, capannoni, impianti, eccetera, del real estate dei cittadini, quindi delle abitazioni, commercial industrial loans, quindi i prestiti alle aziende, alle imprese, sono soprattutto fatti dalle piccole banche. E quindi lasciar fallire le piccole banche significa andare a dare un'ammazzata all'economia americana, e significa far perdere soldi ai loro depositor, che sono le aziende, sono i cittadini americani che vogliono comprare casa, coloro che hanno magari fatto mutui, eccetera, è un problema molto grosso, ok? Perché vai a mettere in ginocchio l'economia. Quindi cosa succede? Entra in gioco l'FDIC, prende il controllo addirittura della banca, in questi tre casi, Silicon Valley, Signature e First Republic, l'FDIC ha sequestrato la banca, spazzando via il valore di tutti gli azionisti, quindi capitalizzazione azzerata o quasi, e salvare i depositor, salvare quindi l'economia. In che modo? Lo vediamo tra poco. Silvergate è un po' diverso perché è andato in bancarotta, quindi c'è la procedura di bancarotta, e quindi gli azionisti potrebbero avere una parte degli asset della banca che vengono liquidati. In che modo l'FDIC è andata a salvare queste banche, o comunque il governo è andato a salvare queste banche? Fondamentalmente, quello che è stato fatto finora sono state due cose. Innanzitutto l'FDIC ha affermato di coprire completamente quelli che sono i fondi dei depositanti. Di solito i conti correnti sono coperti fino a 100.000 dollari, mi pare, o 200, non ricordo, ma una parte, e quindi se uno ha su un milione gli vengono rimborsati il tetto, 100 o 200 che è, e il resto viene perduto in caso di fallimento della banca. In questo caso, se vi ricordate, a marzo era stato fatto un comunicato proprio per evitare la propagazione di questa crisi a livello sistemico, il governo americano ha detto, bene, l'FDIC coprirà tutti i depositi di queste banche, e anche superiori appunto ai 100-200.000 dollari. Perché? Perché altrimenti, ricordiamo USDC, Circle, e tante altre aziende come lei, che avevano fondi in Silicon Valley Bank, avrebbero avuto molti problemi. Quindi al di là di Circle che aveva, che è USDC, che aveva impatto sulle cripto, ma anche sull'economia reale, insomma, non sarebbe stata una cosa leggera. Questa è stata una cosa. La seconda cosa, adesso qui riagganciamoci, magari se riusciamo allo scritto, è il cosiddetto BTFP, ovvero Bank Term Funding Program. Se lo ritrovo, intanto ve lo mostro, ma in realtà poi mi importava farvi vedere i grafici. Il BTFP, in sostanza, aveva come scopo, eccolo qua, andare a, eccolo qua, praticamente collateralizzare i bond in perdita delle banche stesse, e la Fed, in cambio, gli dà liquidità al valore 100. Cioè il bond, di solito, lo si acquista a par, si dice, quindi a 100, e poi il suo prezzo varia, soprattutto in funzione dell'andamento dei tassi, no? Perché chiaramente se acquisti un bond quando i tassi sono 0,5, che ti dà un rendimento dello 0,5, e i tassi salgono al 5, quel bond lì non lo vuole nessuno. Chi è che te lo comprerebbe al valore nominale? Nessuno, no? Perché adesso li compri con la cedola al 5%, e quindi il valore magari da 100 scende a 80, 70, e quello che è, no? Perde il 20-30%. Ecco, la Fed dice, tu me lo presti, me lo collateralizzi, o ti presto 100, a par. E questo per coprire, no? Per dare liquidità pronta all'uso alle banche stesse, anche se gli asset hanno perso valore. Questo si chiama BTFP. Il problema, e questo BTFP, tra l'altro, che cosa ha fatto? Ha fatto sì che la base monetaria, nel mese di marzo, avesse questa impennata. Cioè, il BTFP è stato, qui viene detto proprio in termini, dove viene spiegato in maniera abbastanza esplicita, no? È stato una sorta di quantitative easing nascosto. Cioè, è stata un'erogazione di denaro, di vari trilioni, mascherata, no? Come per dire... Eccolo qua. Vedete, è un'espansione di 4,4 trilioni, di fatto. Che è stata un po' mascherata, dicendo, no, non è un bailout, non è un quantitative easing, però di fatto è stata, vedete, incrementata la massa monetaria. E i mercati, che cosa hanno fatto? I mercati, ovviamente, hanno reagito. Aspettate che ve lo cerco, eh. Trilion. Eccolo qua. Vedete? Un disguised way to print 4,4 trillion to save una parte delle banche. E il mercato, ovviamente, l'ha prezzato. Ha detto, sì, non me la conti a me, il mercato prezza tutto. E infatti ha fatto partire, se vi ricordate, a marzo, all'annuncio del BTFP, il prezzo di oro e bitcoin. Oro e bitcoin sono aumentati del 5% e del 40% da allora. Ok? Adesso, volatilità a parte dell'ultimo periodo. Però il BTFP è quello che ha innescato, no, il grande rimbalzo che c'è stato a marzo. Proprio perché è stato un cambio netto di politica monetaria e un pompaggio della base monetaria circolante in un periodo di, invece, quantitative tightening. Quindi questa è un po' la situazione, no, attuale. Le banche non hanno, non finirà la crisi, perché comunque, fin tanto che lo spread tra i tassi di interesse, questo, e quelli offerti dalle banche, si continuerà ad allargare. È stato fatto un altro aumento di 25 punti base, l'ultimo funk, e c'è un motivo in più per togliere, per prelevare dai conti bancari e andare altrove, per ottenere rendita, no? Questo è il punto. E quindi questo non fa che esacerbare il problema, no, della fuga della liquidità. E questo è il problema grosso, appunto, che hanno le banche stesse. E come si può fare, quindi, per andare a sanare, no? Quale può essere la soluzione? Ora che abbiamo capito il problema nel quale ci troviamo, la causa del problema, come sta, come è gestito, e soprattutto il BTFP non si può fare a livello sistemico, e scusate, l'FDIC non può garantire i depositi di tutti, di tutte le banche, che dovrebbe stampare una quantità illimitata di denaro, e andrebbe a svalutare tantissimo il dollaro. Come si può fare? Ed ecco che arriviamo, no, al famoso denominatore. Quindi le soluzioni sono due, lacrime mie o lacrime tue, come qualcuno direbbe, ma in realtà sono lacrime tue o lacrime tue per il cittadino americano, perché abbiamo o la Fed che inizia a tagliare i tassi, e questo però ovviamente andrebbe a influire negativamente sull'inflazione, cioè l'andrebbe a pompare ancora, il cambio di politica monetaria, e quindi dovrebbe, nel migliore dei casi, l'inflazione inizia a contenersi, sarà importante a tal proposito il dato di domani, che vediamo se l'inflazione è continuamente in contenimento, o rimbalza. La Fed inizia a tagliare i tassi anche rapidamente, in modo da cercare di allineare questi due famigerati grafici, no, un po' alla volta, andando ad arginare il danno, perché più lo spread è alto e più la liquidità fugge. Quindi tagliare i tassi è una delle soluzioni. Tuttavia, questo cosa causerebbe appunto un abbassamento del prezzo della moneta, e quindi l'inflazione che aumenta, e quindi abbiamo capito che la Fed adesso, in suo pugno duro, è proprio contro l'inflazione sopra a tutto, e questo lo ha dimostrato, questo è un mio inciso, andando ad alzare ancora i tassi, anche lo scorso mercoledì, e nonostante tutto, quindi non mi sembra che la Fed abbia intenzione di andare a, come dire, tagliare i tassi a breve, ecco, proprio per il rischio che ne concorre sull'inflazione. Punto 2, il BTFP viene esteso a tutti i prestiti delle banche, quindi liquidità infinita per le banche, in altre parole, cioè tutto collateralizzabile, ti prestiamo liquidità, ma questo vuol dire stampare moneta, base monetaria che aumenta ancora. In entrambi i casi, l'oro e bitcoin andranno su, perché se il prezzo della moneta cala, si ritorna in un regime, più tassi decrementati, e asset risk on, che vengono privilegiati, come un po' negli anni scorsi, incremento della supply della moneta, chiaramente il dollaro che si svaluta, e viene prezzato da oro e bitcoin. Le altre possibilità che vengono chieste, ma quindi se il prezzo della moneta, invece, continuasse a incrementare, perché l'inflazione non si abbassa e la Fed continua ad alzare i tassi? E qua, la risposta è che le banche, non too big to fail, perché un altro punto che non abbiamo toccato, è la tendenza a centralizzare, centralizzare poi alle banche too big to fail, come JP Morgan, vedete che le banche che ne risentono di più, sono quelle piccoline, le banche grandi, sono le cosiddette too big to fail, sono coperte al 100%, è come se fossero, in altre parole, delle banche nazionalizzate, ma dove poi ci guadagnano i privati, gli stakeholder, e ci perdono, nel caso di problemi, i cittadini americani, perché viene stampata moneta, e vengono fatti bail out. Quelle sono le big bank americane, la tendenza è a centralizzare, addirittura l'ultima banca fallita, la First Republic, è stata assorbita da JP Morgan, cioè le banche fallite vengono mangiate con una sempre maggior centralizzazione verso poche banche too big to fail, che sono banche di fatto come se fossero nazionalizzate e i cui profitti vengono dati a pochi, ovvero gli stakeholder, un'elite, è sempre stato un po' così nel sistema bancario. Torniamo a noi. Dicevamo, il caso in cui questo dovesse succedere, di continuare ad alzare i tassi, continuerebbero a esserci delle banche rotte di altre banche, perché di fatto lo spread di cui abbiamo parlato incrementerebbe, la liquidità fuggirebbe, la riserva frazionaria andrebbe a cedere, perché poi i prestiti sono a medio-lungo termine, e ci si trova nel momento in cui non c'è più liquidità, e quindi di nuovo deve entrare in gioco l'FDIC, coprire e insomma parare il di dietro ai depositor. Altrimenti cos'è che viene detto? Un'altra cosa, ah sì, che le banche sopravvivono abbastanza al fine di far maturare i loro prestiti, così li rimpiazzano con prestiti a maggior interesse e arrivano in pari col tasso della Fed, però il problema è che, vedete, in meno di 5 minuti tu puoi trasferire i fondi da una banca all'altra, quindi uno non è che aspetta 12-24 mesi guadagnando lo 0% quando potrei avere il 5%, investendo nei t-bond, e quindi insomma non starebbe in piedi. Possedere bitcoin e oro è la soluzione secondo Arthur Hayes a meno che non credi che l'elite politica vuole far fallire, lasciar fallire il sistema bancario per tenere in piedi il dollaro, ma la domanda è rimarrebbe in piedi il dollaro? Cioè se fallisce il sistema bancario fallisce l'economia americana, come abbiamo visto. E quindi no fucking chance per usare le sue parole. E quindi a Ponli, ve l'ho detto, lui è clamorosamente bullish io a riguardo di questo, insomma ricordiamoci che poi ci sono sempre delle componenti di imprevedibilità e i mercati poi prezzano tutte le cose a modo loro, però sicuramente il tema della crisi bancaria è quello che voglio che ci portiamo a casa da questo scritto. Innanzitutto cosa sta succedendo? Cioè come funziona la crisi bancaria in corso? È importantissimo, no? E spero che di essere stato chiaro, ho cercato di spiegarlo in linguaggio semplice, io non sono un macroeconomista, ma insomma mi sono appassionato a questi temi, ho cercato di spiegarvelo proprio come come parliamo di solito durante le live in modo molto informale e capire quello che è il ruolo di Bitcoin in questo contesto, un ruolo a mio parere sempre più importante. Ditemi cosa ne pensate in un commento, insomma ditemi voi, io ci tengo a sentire la vostra opinione, vi faccio un carissimo saluto e alla prossima. Grazie a tutti.